Una lista dei radicali italiani in Puglia, in vista delle regionali, anche senza Marco Pannella, è un'assemblea nazionale a Chianciano Terme dal 12 al 15 novembre prossimi. I rappresentanti del Partito Radicale si sono riuniti a Bari in un'assemblea precongressuale. Una delle proposte del partito, in vista delle regionali, è di ridisegnare i collegi per la nomina dei consiglieri regionali. I cittadini infatti devono essere liberi, per Sergio Delia, membro del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, di votare non la lista ma il candidato, seguendo il modello britannico. È una proposta di collegi, quindi uninominali, magari piccoli, nei quali il candidato sia conosciuto dai cittadini che lo devono votare. Le primarie di Vendola, detto Aldo Biagini, rappresentante radicale pugliese, avevano destato molte speranze nei cittadini pugliesi, soprattutto nei giovani. Anche la giunta regionale ha proseguito, era partita con uno slancio notevole, facendo pensare ad un radicale cambiamento. Pian piano però la situazione è cambiata, le buone intenzioni hanno trovato per strada degli ostacoli. La nostra è una posizione difficile, ha concluso, essendo noi radicali quelli che potrebbero candidarsi per il cambiamento.